La voce interiore attraverso Roberta S. a cura di VB guide. Sappiate aprire la vostra mente al concetto di infinito. Lì ritroverete voi, lì troverete la vicinanza alla vostra anima. Voi siete nell'infinito e siete proiettati verso l'infinito e dunque il vostro movimento è soltanto un salto, un bilancio che potete fare. Ma sappiate scegliere chi essere anche in questo momento, cosa accettare e cosa rifiutare di questo discorso, perché noi vi diciamo che ognuno di voi è in grado di muoversi nella propria esistenza senza l'aiuto dei nostri suggerimenti. Domanda Più volte ci avete detto che noi veniamo sulla Terra e stabiliamo le esperienze che vogliamo vivere sulla Terra. Noi questo a livello razionale lo comprendiamo, però non comprendiamo come a volte noi scegliamo dei percorsi duri con malattie e con problemi che sembrano difficili da superare in ogni caso. Qual è la differenza tra scegliersi un percorso accidentato invece di un percorso facile, pieno di rose e di fiori, se l'evoluzione in ogni caso è la stessa? Risposta La vostra esperienza vi porta ad essere tutti su uno stesso grado di sofferenza e su uno stesso grado di armonia. Avete tutti l'opportunità di vivere serenamente e felicemente, perché noi vi diciamo che molte persone malate, come le chiamate voi, sono più felici di voi, perché noi vi diciamo che la felicità non ha nulla a che fare con le situazioni che vivete. E allora la differenza sta nella vostra capacità di percezione, nella vostra capacità individuale di muovervi in alcune situazioni. Chi non è in grado di sopportare alcune situazioni non potrà sicuramente viverle, ma vivrà sicuramente altre situazioni che saranno quanto di più difficile per quelle persone si potrà verificare. Questo non perché dobbiate vivere tutti nella difficoltà, ma perché la vostra essenza cerca di richiamare la vostra attenzione in tutti i modi per bloccare questo ciclo di vite a cui vi siete sottoposti, perché nel momento in cui ritrovate l'aggancio con la vostra anima, la vostra anima vi porta via dalla sofferenza e questo può farlo in qualsiasi dimensione vi troviate.